...disc... ...famme pensare che cosa gli posso combinar adesso! C'ho una bella idea! Prego, signorina delina! Grazie! Buongiorno, signor principe! Oh, buongiorno, Adelinka! Allora, è la prima volta che tu metti i piedi in mia dimora? Ecco, Fede, dovrebbe essere la prima volta, ma mi pare tanto adesso c'è già prata! Boh, forse l'ha sognato! Ultimamente sogno un sacco, sa? E tu sai che sogno è buono di venire in realtà? Di che? Ma certo, cara! E' un lavoro che è brutto nel caso! Eh, perché è il lavoro mio! Ma perché tu non apri un negozio di previncie? Sì, ma non c'è una lira! Non c'è una lira! Io invece avrei molta lira e io potrei capire benissimo il negozio di previncie! Sì, ma non c'è un negozio di previncia! 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 Sì, ma non c'è uno un negozio di previncia! Eh, automaticamente che si sciaggono in bocca? acqua, degli acqua ancora no? questo figo? buon che bello senti cara tu dovresti daremi dolce e brutto di tuo buon che bello stupido prendi da buon caro traga, traga, mi ha schiaffo march, march prego è il tempo è il tempo possibile